Oltre ai nostri rilomati Pickup 6x9 Standard e Premium, offriamo ora anche il nuovo Pickup Serie R, pensato per la trinciatura dell'erba con macchine ad alta potenza. È stato progettato da Kemper esclusivamente per la potente Serie 9000 John Deere. Con una coclea dall'enorme diametro di 80 cm e spire della coclea più grandi da 20 cm, è pensato appositamente per garantire il massimo rendimento. È dotato di 6 barre dentate con denti da 6,5 mm per accogliere il prodotto. In questo modo l'aspo del Pickup ruota a velocità inferiore, garantendo una minore usura. La trasmissione senza catena e i componenti rinforzati assicurano resistenza e costi di manutenzione ridotti. Non importa se si raccolgono andane leggere o pesanti, il comando opzionale a doppia testata regola la velocità dei denti del Pickup. Indipendentemente dalla coclea, adattandosi alla velocità di avanzamento, non lascerete più raccolto indietro. I ruotini di controllo dell'altezza aggiuntivi garantiscono una perfetta aderenza al profilo del terreno. Il nuovo Pickup 30R, massimo rendimento anche nelle condizioni di raccolta più difficili. Il nuovo Pickup 30R, massimo rendimento anche nelle condizioni di raccolta più difficili.